Nei giorni scorsi, dopo un lungo periodo di siccità, si sono verificate sul nostro territorio forti precipitazioni. Non si registrano però danni all'agricoltura. Per fortuna questa volta la nostra provincia non ha avuto dei danni, perché guardavamo il cielo ed eravamo molto preoccupati, in particolar modo sentendo quello che stava succedendo in Lombardia, però confidavamo negli appennini e gli appennini in parte ci hanno salvato. La pioggia è arrivata, però è arrivata intermittente, cioè non sono state ore e ore di acqua. Magari sono stati momenti degli scroci forti, ma l'intermittenza ha permesso alla terra di bagnarsi, riposare, quindi piano piano la pioggia che arrivava veniva anche assorbita, perché il problema è che dopo un periodo di grande siccità la terra è secca, asciutta, se l'acqua piove e in continuazione l'acqua scende sulla terra, la terra la fa scivolare via e vengono i problemi a valle. E anche nei campi, invece così con la pioggia intermittenza anche il terreno ha potuto riceverla e ha salvato situazioni di siccità per gli alberi da frutto giovani, i nuovi impianti, per gli olivi, anche se qualche oliva è caduta perché dove il vento ha colpito insieme alla pioggia un po' di olive sono cadute dalle piante e per il settore viticolo, che è quello più pronto per la raccolta, i danni diretti non ci sono stati. Proprio su questo punto, il vino del nostro territorio, che è ormai diventato conosciuto a livello nazionale, che annatta si preannuncia? Settembre è un po' il mese della vendebbia tradizionalmente. Le vendemmie cominceranno, penso, questo fine settimana o i primi giorni della prossima settimana. Si preannuncia una buona vendemmia. Dico, ci potrebbe essere qualche luogo dove magari la pioggia è stata un po' più persistente, dove c'è un po' più d'umidità, creare dei danni indiretti con delle muffe, del piccolo marciume nei grappoli più chiusi, diciamo, quelli più fitti. Però, siccome c'era una buona produzione, perché c'era veramente quest'anno, c'era una buona produzione, io credo che questa pioggia poi non abbia fatto dei danni, ma abbia lavato la vite, l'uva, e quindi non risentirà la vendemmia. Questo vuol dire che avremo un'altra annata di un ottimo vino delle nostre DOC e delle nostre GT. Grazie a tutti.